Un buon accordo che, se rispettato, impedirà all'Iran di dotarsi di armi nucleari e renderà il mondo più sicuro. Questo è il giudizio del presidente statunitense Barack Obama sull'intesa quadro negoziata in Svizzera. Parlando del Rose Garden della Casa Bianca, Obama ha precisato che l'accordo non è stato ancora firmato. Da qui alla fine di giugno i negoziatori continueranno a limare i dettagli affinché l'intesa possa essere pienamente rispettata e quei dettagli, ha ricordato Obama, contano. Se gli iraniani si tireranno indietro, se il meccanismo di ispezioni e verifiche non risponderà agli standard dei nostri esperti in questioni nucleari, non ci sarà alcun accordo, ha aggiunto Obama. Ma se avremo successo, se l'Iran seguirà il percorso concordato con i nostri negoziatori, allora riusciremo a risolvere una delle più gravi minacce alla nostra sicurezza e lo faremo in modo pacifico. Per il Presidente il problema sarà ora convincere il Congresso, dove la maggioranza repubblicana diffida di qualunque soluzione negoziata con la Repubblica Islamica.